Un tentativo di lancio deviato e quindi Monza che recupera il pallone per una rimessa in gioco, poi Aramo in avanti, lo scambio, ancora Stefano che si libera bene, si porta al limite, il tiro! La palla che sfiora l'incrocio dei pali. Poi il pallone ben recuperato, attenzione, il lancio per Dimas, sulla sinistra per Stefano, la possibilità, il tiro e la palla che termina fuori. Ma riprende la palla il giovane giocatore Brianzolo, pallone ancora per Stefano che si fa luce, lo scambio con Dimas, ancora Stefano in profondità, l'uscita dal portiere. Palla per Stefano che accelera, si porta al limite dell'area, sferra il tiro! E la palla che termina fuori, ma l'intuizione è buona, si è liberato bene dall'avversario. Prato, gli riesce una magia, poi il nuovo entrato Stefano, scambiato con Sam, ma ancora Stefano, poi Sam, l'area di rigore, Stefano e il gol del Monza! Stefano! Gran gol del Monza! Bellissima questa giocata con Amadou Sam, Stefano batte un piccolo record appena entrato in campo. Pallone verso Stefano, lo scambio con Sam, attenzione Stefano! La botta rimpallata! Si fa vedere Stefano sulla sinistra, ha spazio. Stefano deve guardarsi, vedete come se ne va Stefano, poi buono il dribbling, in mezzo il pallone, attenzione! Ferrari! Ferrari ribattuto, occasionissima! Controllo e prova ad andarsene, poi viene messo a terra, per l'arbitro è tutto regolare. Stefano, poi Stefano, vedete che l'arbitro e l'assistente lasciano giocare. Stefano, prova ad andarsene sul fondo, Stefano e guadagna un angolo, vedete? Stefano che viene poi giustamente applaudito in maniera convinta dai sostenitori. Ribadisco, l'ingresso in campo di Stefano ha cambiato volto al Monza. Grazie a tutti! Grazie a tutti! Un uomo in barriera, minuti 27, quattro saltatori del Monza con Campisi e Fiuzzi all'esterno dell'area di rigore. Attenzione, palla per Stefano che non perdona Stefano. C'è stato, siamo su 2-0 al 27esimo. Jacopino e riesce a portargli via il pallone, ora cerca il contropiede con Stefano. Stefano deve guardare sulla destra, riesce a superare un avversario. Buono, ottimo lo scambio ancora Stefano in mezzo e questa volta riesce a recuperare bene il Pavia. poi Tuia per Stefano, attenzione Stefano riesce a recuperare palla, ottimo entra in aria, il pallone in mezzo. Grande parata di Polito sulla intuzione di Seedorf, bravissimo il giocatore del Monza. Attenzione al Monza, pericolosa la squadra aprianzola con una percussione per vie centrali dal limite dell'area di rigore.